Ecco perché non riesco alcune volte a farvi vedere, a far continuare la serie, vedete, non c'è la skin, non c'è quella solida, e qua non ci sono i miei mondi, non c'è niente, non c'è, guardate per questo devo fare i video, quindi devo farvi vedere questo. Ok, ciao.